Salve people, come state? Oggi siamo qui su Payday 2 Cercheremo di rubare cose a gente in posti per delle situazioni Ciao No scherzo Siamo qua su Payday 2, un gioco molto figo Oggi cercheremo di entrare in casa dei federali e andare a rubargli la cassaforte all'interno dell'ufficio Quindi bisognerà fare tutta la procedura iniziale per prepararci a capire dove è la cassaforte Il codice eccetera per poi andare a rubare quello che è effettivamente la cassaforte del direttore dell'FBI Io vi lascio direttamente al video senza prolungarmi oltre così potete vedere direttamente com'è il gioco Spero che il video vi piaccia e buona visione Ciao belli Risorse, ci prendiamo dei sacchi per cadaveri in più che non fa mai male e let's go Allora, punto 1, ispezionare i tornelli di sicurezza e prendersi un sacco di cadaveri ad un tipo Allora, corro, corro, rambo, non mi fermano Salve, senza così, senza paura, senza paura, secco e gnecco Oh c'è la lavagna che mi dice che il pc da hackerare è nel server room, perfetto Corri Che basterebbe saltare di là, ma questo è anche il discorso Allora, troverò la lavagna, l'abbiamo trovata e dice di andare nel server room che è questa Correre di nuovo Spera non ci sia nessuno, perfetto Ok, dai, questa è stata molto, molto easy Ok Provare l'ufficio di Garrett Eh, ma ci sono le telecamere Sì, questo pipip delle telecamere mi sta veramente rompendo le palle Vorrei ordinare una pizza, una margherita, grazie E carciofini Speriamo ci ricordino i carciofini Salve Oh, salve Troviamo l'ufficio di Garrett Che non è qui, quindi io me la corro di qua Qua sarà pieno di gente, no, invece Che fastidio, c'è uno che sta entrando di lì Allora io corro, non è qua, che palle di solito è qui Lei Allora? Allora? Mi servirà questo dopo Come cazzo è? Non mi dire Mi ha ucciso la tipa e non era da di qua Tra l'altro con quale musica jazz me lo stai dicendo Guarda dove siamo entrati Scusa Eeeh Sei un bastardo Eeeh, ya Ya tua sorella Eeeh, che fastidio Può darsi sia di qui, eh Speriamo sia di qui, anzi Ma va che bastardo che fa le finte Ma chi? Ma chi? Ma che stronzo che se l'ha mimetizzato coi quaderni, sto scemo Salve Al posto? Posso passare? Grazie, molto gentile È lì l'ufficio Ah, va com'è Eeeh, vabbè L'ho trovato, sei contento Un pacchetto Va che lo sapevo, eh Che passavi di qua, brutto bastardo Due, due Un pacchetto Che cazzo ne so se si sta muovendo E si sta muovendo, sì Verso la mia faccia si sta muovendo Ok Qui c'è un pacchetto, l'ho visto Poi, prossimo pacchettino Vabbè che siete dei bastardi, eh Mamma mia cosa ho rischiato E qua Con tutti i posti c'è un intero piano dell'FBI Qua si ferma Scusi Scusi Cortesemente Allora E di qua E sì Che luce fortissima che penetra attraverso il muro Mamma mia Dai, non possono non essere qua Che pa... Uno è lì L'ho visto E lì c'è Garrett Ma questo... No, non si preoccupi, signor Garrett Le stiamo solo tagliando i fili Della Della sua passaporte Ma Nulla di cui preoccuparsi Non si preoccupi Eh sì Ma che simpatico signore Ma fan chi urlo Ma va che stronzo che c'è un altro Ma va sta Oh santo cielo Sarà lungo e difficile da trovare Adesso guarda intensamente i pannelli elettrici Ma che palle Ma va che saranno dei bastardi eh E niente Incastrato qui a vita sono Vediamo se riesco a uscire da sto posto Eh sì Ma sta musichetta Jets Che bastardo Guarda dove si è Porca troia Ma Eh lo so che devo ancora disabilitarli Niente Come faccio a fare il giro di qui Devo fare il giro da qua Per forza Dimmi te se è possibile sto giro Ma poi dove cazzo è Possibile che sia di qui il dispositivo dai Non c'è più Garrett Non c'è più Garrett Ma è qui Dovrebbe vedermilo Ok Eh niente qua non posso passare E dove sarà la cassaforte Qua sarà la cassaforte Sì 1 2 3 4 1 2 1 2 Haha Ok Bisogna farlo uscire Però Ok Però vuol dire che non vede Vuol dire che non vede la La fotocamera Cioè la fotocamera La cassaforte aperta Perché è stupido Ma neanche qual è 1 2 3 4 1 2 1 2 Troviamo La cosa di Valentine Qua sta arrivando La guardia Valentine sarà lì Quelle parti lì Insomma Ma va che sarai Pezzo di merda Fermarti qua davanti Qua vicino Dovrebbe essere Come me Nell'ufficio Sarà qui Sarà qui Smith Non pronuncerò questo nome Era dentro di lì Un pacchetto Sì è qui Come uno stipite Nella porta Possa nasconderti Da una guardia Ancora sconosciuto Valentine Ok Dai eh Biondo Ecco mi sono incastrato Di nuovo Nella stanza In mezzo Palese Eh no Però non è uscito O sì Mamma mia Quanto Quanto era vicino Quanto era vicino Mamma mia Che paura Ma che stronzo Sparerò questo Stintore C'è il concorso Che inizia con 2 1 2 3 4 9 0 1 1 3 3 7 Update Locked 1 2 Mamma mia Davanti Gli siamo corsi Non c'è nessun codice Col 2 Allora Adesso lo tiriamo fuori Come si deve Proprio questo Gli serve Di telefono Dai Ok Stiamolo E aspettiamo Non mi dire che si mette qua Però perché se si mette qua A rispondere È un cazzo di problema Ciao scemo Ciao scemo Ok Ce la possiamo fare E che cazzo ne so Si sto muovendo Se mi hai fatto nascondere In questo Scantinato Come cazzo faccio A saperlo Ma che stronze Come faccio a passare Adesso Ma guardate Che disingrato Adesso che ti metti qui Io come faccio a passare Se ci sei tu davanti Brutto 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 Babbeo Cerco un codice Che inizia con 2 Ma Stella Vuol dire che si è piantato qui Eh Kevin Ma che fastidio Il codice ha a che fare Con la crime net O commit Ha detto Crime net O commit 2 all'inizio Ho capito Se mi fa passare Il codice deve iniziare Con il 2 Crime net In qualche modo Però deve iniziare Con il 2 Anche ha detto Questo 1 Ma non sono qua Gli indizi Come cazzo Si trova 2015 Ma porca troia 2015 Il codice Gli siamo corsi In faccia di nuovo E non è successo niente Bastardo Speriamo che la terza volta Sia quella buona Facciamolo uscire da lì I federali non resistono al cibo Questa è più piaciuta Eh si Che luce incredibile La vostra torcia Dai Infrattati Bravo Voilà Qua c'è il tizio Devo bussare Devo portaglielo pure Alla porta Eh ma fanno sempre Questo giro Queste qua Una terza ce n'è Ma guardate 2015 2015 Abbiamo detto 2 0 1 5 Enter Ok ricordiamoci che adesso non posso correre Quindi non devo fare l'esuso Non devo fare l'esuso Non devo fare l'esuso Perché c'è una cazzo di guardia Sono ancora qui Che paura Eh si Fanno pure le finte fanno Me ne vado Me ne vado Me ne vado Arrivederci Tante care cose A voi e famiglia Salve E alla prossima La Quanto ci sto mettendo Quanto ci sto Let's go Let's go Oh